Durante le vacanze c'è più tempo, c'è più entusiasmo, le coppie hanno più tempo per stare insieme, per cui c'è un invito al concepimento da parte delle abitudini sociali e dal punto di vista dell'ambiente c'è questa simulazione. In più c'è un fatto in questo periodo, questo anticiclone africano mi innalza la temperatura della notte, perché la temperatura ideale per il concepimento è quando la notte raggiungiamo i 12 gradi. Potremmo definirle le notti della cicogna. Lo scorso 22 dicembre è infatti iniziato con il sostizio d'inverno non solo il periodo più freddo dell'anno, ma anche quello più fecondo. A dirlo, secondo il pediatra Italo Farnetani, proprio la scienza che indicherebbe questo periodo come il migliore per concepire un bebè. Il principale sincronizzatore naturale ancora oggi, che siamo nella fase dell'intelligenza artificiale, è l'alternanza buio-luce, cioè giorno-notte. Chiaramente quando abbiamo il sostizio, quest'anno è avvenuto la notte del 22, cioè la notte fra il 21 e il 22 di dicembre, le giornate iniziano ad allungarsi. Cioè abbiamo quella che si chiama l'inversione del fotoperiodo. Le giornate iniziano ad allungarsi e di conseguenza la luce inizia a essere di giorno in giorno più intensa. La luce è importante perché a livello del cervello sblocca tutti i fenomeni dell'organismo. Più luce c'è, più l'organismo funziona, compresi gli ormoni sessuali. Perciò noi abbiamo che a livello del corpo femminile abbiamo una maggiore attività ormonale per poter iniziare un concepimento. Per i maschi il fatto che c'è una temperatura ancora buona non abbiamo un danno agli spermatozoi. Per il dottor Farnetani in questo periodo la possibilità di gravidanza aumenterebbe da 15% nel nord Italia sino al 30% nell'Italia meridionale. Differenze dettate sia dall'intensità della luce che dalle temperature minime della notte. Quello che danneggia gli spermatozoi è il caldo perché li distrugge o il freddo perché li rende poco mobili. Per cui abbiamo anche la temperatura adatta sia all'organismo femminile sia agli spermatozoi. La notte è un'organismo femminile esame. Grazie a tutti.